La coalizione civica che già oggi governa Mondovie e che si ripropone agli elettori con questo slogan in cui crediamo molto continua qualcosa di buono, inizia qualcosa di nuovo. Ma cosa c'è in questa novità? Intanto alcune idee importanti, l'acquisizione della cittadella per portare avanti i progetti che abbiamo sul compendio immobiliare della cittadella riteniamo fortemente che essa debba essere nella disponibilità del comune. In secondo luogo un'amministrazione aperta a un continuo confronto con la cittadinanza faremo della disponibilità e della serietà dell'impegno i nostri tratti distintivi. Vogliamo entrare nel GAL per garantire alle nostre aziende agricole la possibilità e l'opportunità di partecipare ai bandi europei e ai bandi emessi dal GAL stesso. E poi un lavoro col territorio, con i comuni vicini, mi riferisco anche alla Valtanaro, al Cebano, alla vicina Langa. Mondovì non deve essere il primo dei protagonisti, ma deve essere il traino e deve essere a disposizione degli altri comuni. E poi tante altre idee, alcune legate alle scuole, tante idee sul turismo. E permettetemi un'idea importante sul commercio. Attiveremo quella leva fiscale che consentirà di ripartire con gli affitti dei locali che oggi sono sfitti. Per vivere, per essere una vera città turistica, Mondovì ha necessità del commercio e dei suoi commercianti. Questa amministrazione si aprirà a loro, ascolterà le loro idee e cercherà di metterle in pratica.